Parliamo della nuova era della salute, la riflessologia. Un giorno, molto presto, usciremo dalle nostre case e ritorneremo a goderci la nostra vita normale. Perché questo accada però dovrà cambiare qualche cosa. Bisogna avere salute e speranza. La riflessologia non riguarda soltanto i piedi. La riflessologia riguarda la salute, la speranza e il benessere. Ciao, sono Federica Borsato e sono una riflessologa e posso aiutarti a mantenere la tua salute. Fidati della riflessologia plantare. Provala!